Ogni anno si registrano in Italia circa 5.300 casi di tumore ovarico. L'ospedale di Lecco è terzo in Lombardia come numero di casi trattati dopo lo IEO e l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. In occasione della giornata mondiale dedicata a questa neoplasia l'ospedale Manzoni ha organizzato con l'associazione Acto Lombardia un incontro per fare il punto sui traguardi raggiunti nell'ambito della cura e della prevenzione. Molta strada è stata fatta. Il tumore ovarico è proprio l'esempio tipico in cui i nuovi farmaci stanno dando grossissimi risultati. Parliamo sia di malattia in fase iniziale dopo la chirurgia sia parliamo soprattutto nella malattia avanzata grazie ai nuovi farmaci che sono anticorpi monoclonali che sono farmaci contro i famosi geni tipici di questa malattia il BRCA1, BRCA2. Così come adesso l'immunoterapia si stanno ottenendo dei risultati notevoli e ormai le persone convivono con questa malattia anche numerosi anni. Oggi la chirurgia del tumore ovarico è una chirurgia multidisciplinare che ha l'obiettivo di arrivare al massimo sforzo chirurgico cioè una chirurgia che può coinvolgere il chirurgo generale, l'urologo oltre che il ginecologo oncologo. Quello che è cambiato negli ultimi anni è stata l'evoluzione tecnologica oggi con la chirurgia mini-invasiva laddove si ha la possibilità di avere una diagnosi precoce negli stadi primi anche il tumore dell'ovaio può essere trattato con la chirurgia mini-invasiva la paroscopica e robotica. La prima prevenzione che si fa è il controllo ginecologico purtroppo ci sono malattie come il tumore ovarico che sono difficili, sono piuttosto ostiche da individuare e quindi quando si individuano sono già a uno stadio avanzato ecco perché è importante curarsi e andare dal ginecologo almeno una volta all'anno tutte le età dai 25 anni in su è consigliabile recarsi dal ginecologo.